Un uomo dell'età di 70 anni ha tentato di investire un ausiliario della sosta che lo aveva multato. È successo a Vigevano. L'automobilista è stato denunciato dalla polizia locale. In settantenni aveva parcheggiato la sua vettura in una corsia di canalizzazione in evidente di vieto di sosta. L'ausiliario di conseguenza lo aveva multato. Per tutta risposta l'automobilista lo ha prima insultato pesantemente e poi risalito in macchina ha provato a investirlo, fortunatamente senza riuscirci. Non è questo l'unico episodio di aggressioni ad ausiliari della sosta avvenuto negli ultimi giorni in città. Un altro accertatore è stato insultato, inseguito e una volta raggiunto strattonato da due persone. La sua colpa, secondo gli aggressori, era stata quella di aver fatto una multa per il mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu. Anche queste due persone sono state denunciate dalla polizia locale, così come un altro automobilista che nei giorni precedenti aveva minacciato un ausiliario che lo aveva invitato a spostare la macchina. Sosteneva che lo avrebbe fatto denunciare e licenziare, ma la denuncia alla fine l'ha rimediata a lui. Questa escalation di aggressività nei confronti degli ausiliari della sosta, tutti gli episodi citati si sono verificati negli ultimi 20 giorni, ha allarmato la giunta comunale. L'assessore alla polizia locale Nicola Scardillo ha duramente condannato quanto avvenuto, ricordando che un'auto in sosta può causare un pericolo alla circolazione stradale o, nel migliore dei casi, un disagio per gli altri automobilisti e per i pedoni. Arrogarsi il diritto ad avere per forza ragione, ha commentato, senza comprendere le conseguenze dei propri comportamenti scorretti a danno di altri e, cosa ancora più grave, prendersela contro persone che non fanno altro che svolgere il loro lavoro, denota scarsa sensibilità al rispetto delle regole e un marcato indice di presunzione.